Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Che giornata! Nonni, rigori, ballo e ora dritti in dormitorio. Tocca riposare un po'. Continuano a lanciare il mio bellissimo pubbassetto muffin che non devono permettere di toccarmi perché sono gelosa di lui. No, Rosica, si è a me che mi sei... No, Rosica, mi sei roba di c***o! In realtà sai con questo, la sfottiamo sempre da adesso. Però quando c'è rabbia, c'è rabbia. C'era Rosica che io avevo il coso in destra ma mi ha fatto tirare un pugno in destra con la forza. Io avevo un po' di testa. Ma c'è da... Ma sia, dammelo, ma sia! Oh, non mi rompere quel tuo verde! Grazie, non per il bianco. Per il bianco, brucia. Coi p***i! Com'è? Non ti scherzo. Sembra a me dovete far arrabbiare! Io non mi sento bene! Ve l'ho detto prima che non mi sento bene! Basta! Ma perché io vieni a quello? Basta! Oh! Non ha senso che lanciate il mio pubbassetto e che vi mettete a correre. Non ha proprio senso. Perché vi ursate solamente. E' una serata movimentata in collegio. E' qualcosa bolla in pentola. Non conosciamo. Non conosciamo. Non conosciamo. Non conosciamo. Non conosciamo. E' da un po' che vogliamo fare una fuga e abbiamo detto, dai, la palestra non è niente male. E' del cuore! Ssshshshshsh! Vedi che una luce... Tutto tolt, ok? Scusiamo lei come fatto! Vai, venga, giochiamo a calcio, fanno una partita, venga. Sfostatemi. Spostiamo più là. È più là. Ah, ok! Levati. Ho iniziato subito a pittorare, mi è venuto distinto, uno, nove, cinque, otto. Io? Non stai saltando su niente. Vabbè, dai, maggiore. Faccio, stai scrivendoci. A vedere d'altimo un pennarello di qua. Firmato, firmato. Eh, questa fuca è riuscita bene, speriamo di un bocca al sorvegliante. Stiamo a fare un po' dei panico, ci stiamo a divertire. Grazie a tutti.